Rispetto, serenità e tranquillità lavorativa, chiediamo solo questo. Rivolgiamo la nostra dignità, la nostra serenità lavorativa, questo dicono i lavoratori dipendenti di Autogrill, nella Autogrill di Arno Est, dove ci troviamo in questo momento, loro stanno appunto scioperando. Dai turni di lavoro disagiati, qualche volta anche lasciati in poche persone con l'arrivo di tantissimi pullman, a una tale quantità di mansioni che non ce la fanno a portarle in fondo e comunque qui purtroppo molto spesso, quasi sempre ripresi anche per delle cose inutili o anche quando sanno che hanno fatto veramente un lavoro disumano e però questo non basta mai. Queste sono le cose da fare che ho fatto, questo però è un riporto della direttrice, quello che non fai non segnarlo come è fatto, come se io segnassi come è fatto le cose che non faccio. Viene dalla Spagna, lei è una guida, ha mai potuto verificare quello che raccontano questi lavoratori? C'è una persona alla cassa, un'altra al bancone, arriviamo 100 persone, a volte due pullman e non ce la fanno perché manca personale. Si causa molti problemi, disturbi perché la gente si incavola, si arrabbia, dicono che gli diamo 30 minuti per andare al bagno, non hanno quasi tempo per prendere il caffè. Le notte le facciamo da solo, con molti carichi di lavoro, con una lista di cose da fare infinita, e essendo da soli non facciamo la pausa. All'azienda chiediamo che aumenti il personale, soprattutto nelle fasce notturne, e che ci dia modo di fare una pausa, la nostra pausa di mezz'ora, che ne abbiamo diritto.